Tempo per gara 3 delle semifinali playoff del campionato di Serie B. Nel tabellone 3, dopo il KO in gara 2 al Palafiom contro Cividale, la serie per il Cussionico Taranto si sposterà in terra friulana. 1-1 attualmente tra la seconda del Giro 1-D e la terza del Giro 1-C, con i rosso-blu che tuttavia sono costretti a vincere almeno una delle due sfide in trasferta per ristabilire il fattore campo. In caso contrario sarebbero gli uomini allenati dall'esperto tecnico Pilastrini ad avanzare in finale contro la vincente di Fabriano San Vendemiano. Finale invece ad un passo per la Frata Nardò e Granata, dopo esser passati sul 2-0 contro la Luis Roma grazie alle due vittorie a Palapasca, saranno di scena in terra capitolina. L'obiettivo per l'atto terzo in programma questa sera sarà quello di chiudere immediatamente i giochi, senza sottovalutare un avversario che rappresenta la rivelazione di questi playoff. Fa ripuntati anche sull'altra semifinale, quella tra Rieti e Roseto. La corazzata Sabine ha al momento sotto sullo 0-2 contro gli abruzzesi, che hanno la possibilità di chiudere i giochi tra le mura amiche. Partite intanto la post-season per il campionato di Serie C Gold. Nella polpromozione cominciano bene Virtus Molfetta e Basket Corato, che superano rispettivamente Adria Bari e New Basket Mola. Classifica che dunque vede Molesi e Molfettesi a quota otto punti in classifica, seguiti da Baresi e Coratini a quota 6. In pur retrocessione invece, importante successo esterno per la nuova Matteotti Corato, che spugna il parquet di Monteroni.